Musica Eboli nominato il commissario straordinario e Antonio De Jesu Covid, il bel gesto di tre operatrici che non lasciano soli gli anziani della casa di riposo di Teggiano Golfo di Policastro, un milione di euro in arrivo per il maltempo, quattro i comuni destinatari dei fondi ma anche il riconoscimento dello stato di calamità Vallo di Diano, gli atti storici del consorzio di bonifiche in una pubblicazione in arrivo ai fondi della regione dopo una prima esclusione L'agenda politica di Uno TV, ieri consiglio regionale, il discorso del presidente, campagne acquisti in vista delle comunali e il centrodestra Buonasera e bentrovati all'appuntamento con il nostro telegiornale Ad Eboli è arrivato il commissario prefettizio, si tratta del già questore di Salerno, di Milano ed ex vice capo della polizia Antonio De Jesu Dopo la misura cautelare degli arresti domiciliari del sindaco, poco dopo la rielezione Massimo Cariello è stato Luca Sgroria a reggere l'ente per 50 giorni fino ad oggi, ma vediamo i dettagli nel servizio Antonio De Jesu è il nuovo commissario prefettizio del comune di Eboli Il 65enne prefetto, nato a Napoli, già questore del capologo partenopeo, ma anche di Milano, Salerno e Bari e vice capo della polizia, traghetterà in questi mesi l'attività sul fronte amministrativo nella città della Piana del Sele per il previsto ritorno alle urne nella primavera del 2021 per l'elezione del nuovo sindaco e del consiglio comunale Ad Eboli la fase di commissariamento si è resa necessaria a seguito delle dimissioni presentate il 9 novembre scorso dall'ex sindaco Massimo Cariello, coinvolto con l'accusa di corruzione e abuso d'ufficio in un'inchiesta giudiziaria che lo ha condotto agli arresti domiciliari dal 9 ottobre scorso con l'indagine della Guardia di Finanza che riguarda anche quattro funzionari dei comuni di Eboli e cava dei tirreni interdetti per 12 mesi In questi 50 giorni Eboli è stata guidata dal sindaco facente funzioni Lucas Groia Ed Eboli si era tornati al voto soltanto poche settimane fa, il 20 e il 21 settembre con Cariello ad ottenere il secondo mandato da sindaco con la plebiscitaria affermazione dell'80% al primo turno Voltiamo pagina, dopo il focolaio nella casa di riposo per anziani a Tegiano tre operatrici hanno deciso di restare in isolamento fiduciario vivendo nella casa di cura per continuare ad accudire gli anziani ospiti Un bel gesto apprezzato anche dalla comunità Un bel gesto di solidarietà che esprime l'amore per il proprio lavoro e profondo affetto nei confronti degli anziani che accudiscono ormai da diversi anni A compierlo sono tre operatrici della casa di riposo Monsignor Umberto Altomare di Tegiano che da circa 10 giorni vivono in isolamento fiduciario proprio all'interno della casa di cura per fare in modo che gli ospiti non restino senza assistenza dopo i casi di contagio da Covid-19 registrati nei giorni scorsi Le tre operatrici risultate negativi al virus accudiscono i tre anziani anche loro negativi rimasti all'interno della casa di riposo dopo l'accertamento di otto casi positivi cinque ospiti, tutti asintomatici, ma trasferiti in ospedale per garantire loro una più adeguata assistenza sanitaria in caso di necessità e tre operatori attualmente in quarantena presso le loro abitazioni Una scelta, ci tengono a precisare le tre operatrici fatta di nostra spontanea volontà essendo negative potevamo tornare a casa ma abbiamo deciso di restare accanto ai nostri vecchietti hanno spiegato per salvaguardare la loro salute per assisterli nel migliore dei modi per continuare a fare il nostro lavoro in attesa del loro ritorno ci teniamo i nostri ospiti a restare qui in questa particolare situazione hanno raccontato ci è sembrata la cosa giusta da fare le tre operatrici ora sono in attesa di un secondo tampone che faranno in settimana per rientrare nelle loro abitazioni in piena sicurezza e riabbracciare finalmente i propri cari che non vedono dalla 18 novembre scorso le giornate trascorrono veloci hanno raccontato perché lavoriamo, assistiamo gli anziani e puliamo tutte le stanze che vengono spesso sanificate così da poter riaccogliere presto gli altri anziani ora in ospedale che quando torneranno troveranno tutto in ordine, pulito e sanificato attendiamo il loro ritorno con impazienza soprattutto quello della nostra centenaria alla quale siamo tutti molto legati a sostenere le tre operatrici ci sono non solo i familiari che ogni giorno portano loro tutto l'occorrente per vivere nella casa di riposo ma anche amici e conoscenti che preparano loro dolci, ciambelle e rustici che lasciano rigorosamente dietro la porta un modo per dire che la comunità è con loro e che apprezza l'impegno e la dedizione dimostrati verso il proprio lavoro e gli altri Cambiamo argomento Golfo di Policastro colpito dal maltempo delle scorse settimane arrivano i primi ristori della regione Campania in sostegno ai comuni che hanno dovuto effettuare opere immediate di messa in sicurezza manca ancora il riconoscimento dello stato di calamità in merito al quale si attendono le decisioni del governo vediamo i dettagli nel prossimo servizio 1.500.000 euro i primi fondi in arrivo in alcuni comuni del Golfo di Policastro che nella notte tra il 16 e il 17 novembre scorsi sono stati duramente colpiti dal maltempo con frane, smottamenti, detriti e fango che hanno provocato danni e paura tra le popolazioni residenti una notte da incubo ed un risveglio amaro in uno scenario di desolazione quattro comuni più colpiti ossia Vibonati, Spani, Santa Marina e Torre Ursaia che sin dalle prime violenti piogge avevano costretto le amministrazioni locali ad emettere provvedimenti di messa in sicurezza degli abitanti tra cui anche ordinanze di lasciare le proprie abitazioni individuando luoghi sicuri dove potersi riparare in attesa di poter rientrare nelle proprie case notti da incubo quindi per le popolazioni con il comune di Vibonati che è risultato il più colpito dalle piogge torrenziali abbattutesi tra il 16 e 17 novembre i diversi comuni avevano da subito richiesto il riconoscimento dello stato di calamità invitando cittadini a compilare appositi moduli per la quantificazione dei danni in attesa che dal governo arrivi la decisione dal Dipartimento di Protezione Civile e Lavori Pubblici della Regione Campania arrivano i primi ristori per le popolazioni colpite per un totale di oltre un milione di euro distribuito tra i vari comuni colpiti parziali rimborsi alle spese già sostenute nei giorni immediatamente successivi alle calamità per il comune più colpito ossia Vibonati dalla Regione sono in arrivo 425 mila euro mentre ad Ispania è stato comunicato lo stanziamento di 272 mila euro di somma urgenza che vanno così a coprire le spese sostenute fin qui per la messa in sicurezza e di ripristino delle aree maggiormente danneggiate dal maltempo. Anche a Santa Marina arrivano i primi fondi ammontanti a 250 mila euro mentre per Torre Orsaia sono stati stanziati 58 mila euro a parziale ristoro per i lavori di sistemazione del territorio ora si attendono le decisioni del governo per ciò che riguarda il riconoscimento dello stato di calamità naturale per i quattro comuni già destinatari dei fondi a cui si è aggiunto anche il comune di Centola come da approvazione in Consiglio regionale e per il riconoscimento di indennizi anche ai privati maggiormente danneggiati dal maltempo e dalle conseguenti frane. Nessuna contaminazione a seguito dell'incendio verificatosi nell'ex Fondeco lo scorso agosto. Lo scorso 27 novembre l'ARPAC ha fatto pervenire al comune di Polla gli esiti degli accertamenti effettuati lo scorso agosto sul territorio a seguito del drammatico incendio sviluppatosi nell'area industriale presso la società ex Fondeco che si occupa dello stoccaggio di rifiuti. Nei giorni successivi i tecnici dell'ARPAC avevano raggiunto la zona per effettuare i prelievi su campioni di terreno e sugli alimenti prodotti nella zona per accertare lo stato di salubrità dell'ambiente e del territorio. Nei giorni scorsi l'esito delle analisi è stato consegnato all'ente comunale in cui con una lunga nota è stato comunicato l'esito delle analisi. La nota dell'ARPAC fa sapere il sindaco Loviso conclude che i risultati escludono una contaminazione delle aree indagate. Ora c'è la cronaca a Caggiano è finito in manette un trentenne napoletano già noto alle forze dell'ordine durante il controllo ha tentato di corrompere i carabinieri. Ma vediamo i dettagli. Ha fornito false generalità e ha tentato di corrompere i carabinieri che lo hanno fermato. È stato arrestato dai militari della stazione di Caggiano un trentenne dell'Interland napoletano già noto alle forze dell'ordine. Tutto è partito ieri dalle segnalazioni di alcuni cittadini preoccupati che hanno indicato un'automobile sospetta lungo la strada che collega Caggiano con Polla. L'uomo aveva parcheggiato infatti in località Cangito dove passeggiava con fare sospetto. I carabinieri di Caggiano sono quindi arrivati sul posto per capire chi fosse e cosa stesse facendo. In un primo momento il trentenne ha fornito una falsa identità ai militari. Condotto poi in caserma, i carabinieri lo stavano multando per aver violato le prescrizioni imposte per il contenimento del covid. Trovandoci in zona rossa infatti non avrebbe dovuto spostarsi dal proprio comune di residenza senza una valida motivazione. A quel punto ha provato a dare loro dei soldi per interrompere il controllo quindi a corrompere i carabinieri che lo hanno così fermato. È passato da una sanzione amministrativa alle manette e ora il trentenne con precedenti penali in attesa delle procedure di rito che portano alla convalida dell'arresto. Era stato inizialmente escluso dall'ottenimento dei fondi il progetto per la pubblicazione degli atti storici del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro a quasi 100 anni dalla sua nascita. La Regione ha accolto l'istanza di revisione e arrivano i fondi per la pubblicazione. Vediamo. Una pubblicazione storica che racconta i quasi 100 anni di vita del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro. Dopo un'iniziale esclusione, il progetto dell'ente consortile presieduto da Beniamino Curcio a seguito rettifica della graduatoria di merito per l'ottenimento di fondi regionali si è visto riconoscere i fondi pari a 5.600 euro che potrà contribuire alla raccolta e successiva pubblicazione di tutti gli atti emessi dal Consorzio dal 1926 anno della sua Costituzione fino ai giorni nostri. Seppur si tratta di una cifra irrisoria resta comunque l'importanza del progetto a dare anche un importante valore alla somma a disposizione consentendo così di raccontare e rendere pubblica la lunga storia dell'ente che può vantare quasi un secolo di vita. L'idea sostenuta dal Presidente Curcio è partita dall'Avvocato Emilio Sarli che da storico e ricercatore sulla base anche degli elementi raccolti nell'ambito di un lavoro di catalogazione aveva avanzato la proposta di rendere pubblici gli atti conservati nell'archivio storico realizzato. L'emanazione da parte della Regione Campania del Bando per l'accesso ai contributi al sostegno dei musei e delle raccolte museali di enti locali e di interesse locale nell'ambito dell'esercizio finanziario 2020 si è rivelata l'occasione propizia per poter ottenere i fondi necessari alla pubblicazione degli atti conservati nell'archivio storico. Il progetto, denominato sulla base delle finalità che intende perseguire il scenario ambientale e paesaggistico nell'opera del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro Patrimonio Culturale del Territorio Regionale Ricerca, Convegno, Mostra, Atti era stato inizialmente escluso dalla graduatoria ma il Presidente Curcio non si è reso e ha deciso di presentare istanza di riesame in merito alla posizione del Consorzio. Istanza è andata a buon fine tanto da vedersi riconosciuto il contributo regionale di 5.600 euro che insieme ai 2.400 euro dell'ente consortile mette a disposizione 8.000 euro complessivi per realizzare una pubblicazione ufficiale degli atti conservati nell'archivio storico al fine di rendere più agevole la consultazione degli stessi atti e la presa in visione. L'obiettivo è anche quello di realizzare un volume che raccolga tutti gli atti inventariati che sarà poi presentato ufficialmente nell'ambito di un incontro pubblico e che potranno anche essere visibili attraverso il sito internet dell'ente consortile. Assanza prosegue il lavoro verso la definizione del piano urbanistico comunale entro la fine dell'anno sarà disposta la stesura della componente programmatica o operativa del PUC vediamo il servizio Assanza prosegue il lavoro verso la definizione del piano urbanistico comunale importante strumento per regolare la gestione delle attività di trasformazione urbana e territoriale entro la fine dell'anno infatti sarà disposta la stesura della componente programmatica o operativa del redigendo piano urbanistico comunale l'amministrazione è arrivata alla proposta definitiva del piano dopo lungo percorso tenendo conto delle normative nazionali e regionali in tema di minor consumo di suolo e valorizzazione delle risorse ambientali naturalistiche e paesaggistiche del territorio sanzese e in linea con il piano territoriale regionale e con il piano territoriale di coordinamento della provincia di Salerno alla progettista incaricato è stato indicato di considerare gli indirizzi formulati dall'amministrazione comunale in merito all'utilizzo se del caso di una quota parte dei nuovi carichi insediativi attribuiti al comune di Sanza nella conferenza dei sindaci del Vallo di Diano del 24 gennaio 2013 per il recupero del patrimonio edilizio esistente nel contesto agricolo tra cui ex impianti produttivi e depositi agricoli dismessi rispetto al consumo di nuove aree per lo sviluppo urbanistico ora dunque spetta al progettista del PUC sottoporre all'attenzione dell'amministrazione comunale varie opzioni di sviluppo urbanistico e socio-economico della comunità sanzese tenendo conto dei vincoli ambientali naturalistici e paesaggistici che concorrono sul territorio comunale per poi proseguire in linea con i tempi stringenti dettati dalla regione Campania alla stesura della proposta definitiva del PUC Ora ci fermiamo per un po' di pubblicità ci ritroviamo tra poco Bentornati in studio proseguiamo con il nostro telegiornale nuova ordinanza di chiusura del plesso scolastico di San Pietro Altanagro dopo gli ennesimi inconvenienti verificatissi nella giornata di ieri il sindaco Domenico Quaranta ha emesso una nuova ordinanza di chiusura del plesso in via Grosoleia a causa del malfunzionamento dell'impianto per la sola giornata di oggi il plesso scolastico è rimasto chiuso con prosieguo della didattica a distanza l'ordinanza si è resa necessaria a seguito anche del mancato arrivo all'ente comunale di comunicazioni da parte della ditta incaricata di effettuare l'intervento di riparazione dell'impianto di riscaldamento del ripristino del suo funzionamento a Torre di Mare di Capaccio Pestum sono stati tagliati decine di pini e i carabinieri forestali di Foce e Sele allertati da numerose segnalazioni hanno apposto i sigilli sull'aria e sugli esemplari abbattuti sul caso è intervenuta anche legambiente vediamo i dettagli dopo il sequestro dell'aria pinetata di Torre di Mare da parte dei carabinieri forestali di Foce e Sele il circolo legambiente Capaccio Pestum fa sentire attraverso una nota tutto il disappunto per il taglio selvaggio di pini questo taglio è solo l'ultimo di numerosi altre quali si assiste dallo scorso anno sul nostro territorio con una frequenza ed una efficienza senza precedenti ricordiamo che la pineta costiera come i filari frangivento e gli esemplari arbore isolati sono parte fondamentale del nostro paesaggio tutelato dal 1939 dalla legge 1497 ma Capaccio Pestum sembra esserci un accanimento contro gli alberi considerati un mero ostacolo alla modernità e allo sviluppo si interviene in maniera scriteriata e si creano danni enormi senza tenere in minimo conto l'impatto drammatico che si determina agevolando il cambiamento climatico il dissesto idrogeologico il peggioramento della qualità dell'area e la trasformazione del paesaggio eppure pochi mesi fa si legge ancora nella nota è stata approvata da parte della regione Campania il piano di gestione forestale del nostro comune si tratta di uno strumento importantissimo che consente di gestire in modo razionale il patrimonio boschivo regolamentando le sistemazioni idraulico forestali le azioni di difesa del suolo di conservazione dei pascoli di prevenzione degli incendi di produzione del materiale legnoso tutelare il patrimonio arborio è interesse di tutti per questo spieghiamo un maggiore coinvolgimento della comunità e del mondo associativo nelle decisioni importanti come queste tutte le altre che riguardano il nostro futuro ora c'è l'agenda politica di uno tv oggi Mario Cirillo si sofferma sulla seduta del consiglio regionale di ieri e quindi sul discorso del presidente Vincenzo De Luca e poi una carrellata sui partiti che nel Salernitano si stanno muovendo in vista delle comunali tutti meno che il centrodestra che sembra viaggiare in ritardo rispetto agli altri ma vediamo eccoci con l'appuntamento quotidiano con l'agenda politica di uno tv Mario Cirillo oggi parliamo del consiglio regionale che c'è stato ieri del discorso del presidente sì discorso di inizio consigliatura da statuto alla prima seduta in realtà e alla quarta perché ci sono stati due rinvii il presidente illustra il programma dei cinque anni è stato un modo anche per togliere per togliersi qualche l'ennesimo sassolino dalla dalla scarpa De Luca ha parlato di tutti i temi ovviamente ha fatto una valutazione generale del programma di governo ricordando anche quello che è stato fatto negli ultimi cinque anni e poi si è soffermato in modo particolare questo sarà il tema sulla sanità De Luca ha un'idea chiara della sanità che è quella che passa attraverso il rinnovamento dell'utilizia ospedaliera traduciamo ancora meglio De Luca vuole costruire nuovi ospedali servono perché questo è il tema servono oggi nuovi ospedali o forse serve una nuova sanità e penso che nelle prossime nelle prossime insomma settimane non era De Luca al telefono nelle prossime settimane il dibattito riguarderà proprio questo argomento cioè da un lato chi vuole il mattone ospedaliero dall'altro invece chi vuole una sanità che sia più vicina ai cittadini passerà ovviamente il tutto anche attraverso la commissione sanità centro nevralgico della discussione e non è che sarà l'opposizione a mio giudizio a portare avanti qualche progetto alternativo ma è probabile che arriverà dalla stessa maggioranza perché dico questo perché se da un lato è chiaro che per Napoli per Salerno per Benevento per Avellino Avellino non credo perché tra l'altro il Moscati è di recentissima costruzione un nuovo ospedale può essere visto come un elemento positivo ci sono le aree interne ci sono i piccoli comuni dove è chiaro che un ospedale grande assorbe il piccolo e c'è il timore che dei servizi che oggi sono a 2 km 5 km a 10 km si possono spostare a 40 km sicuramente migliori ma pur sempre a 40 km quindi questo è secondo me l'obiettivo il tema sul quale ci sarà il dibattito d'altronde anche quello nazionale nelle prossime settimane e quindi insomma De Luca ha annunciato però adesso bisogna passare alla fase concreta cambiamo argomento parliamo dei partiti soprattutto del PD che a quanto pare sta facendo campagne acquisti si sta facendo campagne acquisti in vista delle provinciali in vista delle elezioni comunali di primavera gli ultimi due passaggi hanno fatto clamore perché Antonello Di Cerbo che si era candidato con il Partito Socialista dei regionali aderisce al PD ma lo fa anche un nome importante del valodidiano Gianni Guzzo che con il Partito Socialista è stato eletto alle provinciali e alle ultime elezioni provinciali che si è candidato con il Partito Socialista alle ultime elezioni regionali che ha deciso di aderire al Partito Democratico due storie diverse ma come dire la testimonianza chiara di come il PD non va a lasciare nulla agli avversari anche agli stessi alleati anche agli stessi alleati Di Cerbo sarà candidato sicuramente al Consiglio Comunale a Salerno nella lista dei progressisti Guzzo sarà candidato sicuramente il 31 marzo se non ci sono altre modifiche alle prossime elezioni provinciali con il Partito Democratico viene un po' svuotato il Partito Socialista ed è anche una risposta a quello che era accaduto poco prima delle elezioni regionali quando Andrea Volpe da sempre vicino al PD era stato candidato e poi tra l'altro è stato anche eletto all'interno del Partito Socialista il PD più che il PD direi il gruppo De Luca punta a costruire un progetto un programma molto simile a quello delle regionali anche alle comunali secondo me lo schema sarà quello con le civiche dove è necessario il PD immagino Eboli e Battipaglia ma in Salerno sicuramente non ci sarà il PD ci sarà la lista dei progressisti che insomma è un PD sottomettite spoglie poi alla fine e quindi abbiamo detto il PD si sta muovendo il Movimento 5 Stelle ne abbiamo parlato settimana scorsa assolutamente delle regionali il centro-destra invece ne parlavi proprio su agenda politica è in ritardo rispetto agli altri come al solito come al solito perché il centro-destra della campagna in generale ma dico anche in provincia di Salerno viaggia purtroppo ad una velocità ridotta rispetto agli altri partiti probabilmente preso da altri problemi che sono quelli nazionali però oggi non c'è ancora insomma un dibattito ufficiale perché bisogna dire una cosa importante Salerno, Eboli e Battipaglia che sono comuni sopra i 15 mila abitanti non vengono decisi a livello locale cioè la candidatura non viene scelta dai livelli comunali forse da quelli provinciali sicuramente da quelli regionali ma in caso di necessità si passa al tavolo nazionale perché dico questo? perché c'è comunque c'è comunque il nome di c'è comunque il nome di Napoli che insomma crea un po' di bisogna capire prima Napoli e poi tutti gli altri beh abbiamo fatto una carrellata diciamo tra la situazione dei partiti in vista anche delle comunali e termina qui l'appuntamento di oggi grazie Mario ci vediamo domani grazie a voi e con questo è tutto per questa edizione grazie per averci seguito continuate a restare con noi a tutti un'ottima serata grazie a tutti